Ora io sono Marcus Grone e bentornati nella Tekken Beacraft Ragazzi, vi ricordate il fatto che io ogni tanto parlo di un certo disturbo dell'attenzione e di un sacco di problemi riguardo a tipo le voglie e tutto quello che ne consegue Ricordate che io ho detto che ho passato 10 ore nell'ultima puntata per spostare tutto in questo mondo Beh, sto distruggendo tutto Che cazzo è stato? Vai tartolina, vai, distruggi tutto Sto distruggendo tutto perché ci ho ripensato, ci ho ripensato Voglio fare un'altra cosa, voglio fare un'altra cosa E signori siamo qui per andare avanti con la puntata dell'esperienza Ma soprattutto per farvi vedere le modifiche alla serie Allora, questa qui è la nostra zona di crafting che si vede anche con l'enderface Eccola qua, dove possiamo ricaricare ad esempio il nostro Atomic Disassembler E lo carichiamo qui, qui c'è una gnoba che può constatare con noi le evoluzioni Allora adesso se io vado qui e premo spazio Zan 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 zan, sediamoci e accomodiamoci Ah, molto utile Sì, col jetpack Ok Questo qui ragazzotti è l'elevator dell'open block Bellissimo Si fa con un ender pearl E, 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 e Vieni qua E su tutta lana se non vado in razio Eccola qui Ed è davvero fantastico Ti ci metti sopra Spazio Sali Shift Scendi E nei config dice al massimo 20 cubi Io gli ho messo 200 così per stare tranquilli E adesso possiamo andare a vedere quello che su facebook qualcuno ha già visto prima La zona industriale Zan 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 Bam 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 Guardate che bella Questa è la chisel Una mod di cui io e gnoba abbiamo fatto una costruzione in sandstone Nella non c'ho oso craft Adesso vi faccio vedere come si fanno questi due blocchi Che sono davvero molto belli Allora ci vuole l'iron Vediamo se mi ricordo E ci vuole la Stone Dov'è la stone la stone eccola qua No vedi mi ricordavo Perfettamente come cacchio Come era Tipo R su quel coso Effettivamente potrei farlo ma non lo farò E' questa E' questa e' questa e' questa il contrario E' il contrario Eccolo Allora voi fate 8 blocchi Di questo quindi spiegando un lingottozzo d'oro Poi lo mettete dentro al chisel che si fa Così Che quindi è molto difficile ragazzi da craftare Ci ho messo 30 secondi E' impossibile E qui se lo mettete vi da tutte Le diverse classificazioni E' la roba questo qui è il blocco futuristico Con cui ho fatto anche questo Qua che è molto 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 bello E anche questo qui andiamo a Vedendo Dovrebbe essere questo Di conoscemenza Si di conoscemenza Sono simili Alcuni sono multiblocco Nel senso come potete vedere Vieni qua Questi qui si uniscono Se tu ne metti uno soltanto E' delineato Vedete Li bordi Così si uniscono Sono davvero molto 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 carini Questo qui è molto particolare Perché Si unisce e crea un disegno geometrico Voilà Mentre se tu lo disallini Mette questa Questa banda scura Come di ossidato Non lo so E' molto molto carino Anche questo è Cisel E questo qui invece E' il factory block Vediamo un po' Factory B Perché a te ti esce l'ira di dio Ah si faceva così Te ne da 32 Noi di ferro ce ne abbiamo un botto Anche perché Ho letto nei commenti Ti mai ti hai detto Metti una leva Che va più veloce Porco Giuda Se va più veloce Cristina D'Aena Guardate qua che cazzo sta facendo Che cazzo Che caxus sta facendo Che sei paxerello Sono paxerello Paxerello Ok Ributtiamo tutto dentro E oggi Signori Eh signori Andiamo a fare Le liquid exp Intanto Un cane rompe Il cassio Ah questo qui Saranno tre Vado Vado a tirare Vado a tirare Le polpette avvelenate Ditemelo subito Vabbè questi qui saranno Tre corridoi Che ci porteranno A tutte Tutti i nostri impianti Le api E le farm Della main factory Le faremo sopra Intanto Nubamore Qua c'è una produzione Automatica di charciole E qua ci stanno Tanti 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 Coquiven Che producono charciole Con la legna Che ci dà La main factory Legna che sembra Restar finendo Perché la mia tartolina Sta spaccando tutto Di qua Di qua Di qua Di qua Ho accumulato Il Cresotot oil Cresotot oil E di qua Di qua Di qua Abbiamo fatto Ho spostato la farm D'esperienza Per chi Non l'avesse vista E questa qui Molto molto semplice Guardate quanta ce n'ha fatta Raga E' un botto Guardate Pim Vedete mi ha dato l'esperienza Normalmente Se io mi allontano Se la becca tutto questo LXP collector Queste qui crescono Più ricogliosamente parlando Perché dentro c'è Un watering can Qualcosa di OP Forse Sti cazzi Rispondo io Allora Andiamo a Prendere Della stone Molto ottimo Che la prendiamo La prendiamo Da qua E Sapete che vi dico Invece della stone Perché non metterci Un dark Un dark glass Si potrebbe da fare Dark glass Sono davvero molto belli E si fanno in una maniera Un po' Un po' Astrusa Allora Per fare questo Ci serve il Tinker glass Che si fa col sand Di glass Che si fa sabbia Più vetro Interessante Quindi 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 Sand Ce ne prendiamo Un totter Che ci serviranno Per la prossima puntata E vetro Idem Con patate Vai così Twinkie Ok A noi una crafting table Le mettiamo Qui Qua E qua E qui Qua E qua Ne facciamo 24 Ne facciamo 32 Ne facciamo 40 Very 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 good Però io adesso ancora Non c'ho niente da automatizzato Quindi devo Purtroppo muovermi In questa direzione E dirgli Kiko Kojime novo Quindi lui adesso Mi può qua questo E dopo andiamo a vedere Come funziona Ed è molto 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 Carino Ok ce lo sta Fando Andiamo a vedere Prima della Liquid XP Andiamo a vedere La Un blocco Che mette Sempre la nostra Amica No Extra Utilities Open Block Che si chiama XP Bottler Eccolo qua L'XP Bottler E' davvero Molto interessante Ipotizziamo che non ci fosse La Liquid XP Ok E che io ho Accumulato Questa Questa esperienza qua Perché c'è L'XBot L'XP L'Experience Bottler Nella OpenBlock Perché la OpenBlock OpenBlock Perché In realtà Tutti mi dicono Fai come fa TimeWolf Mod.open Vedi che c'ha ragione TimeWolf Stupido Inglesotto Ok Questi sono La cosa più inutile Che io abbia mai visto Comunque Pi 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 Le tank sono bellissime Dov'è quella Grata Gratinante Grattugiante La trappola per gli orsi Giustamente Vabbè comunque Adesso io non la trovo Però c'è sostanzialmente Una grata Che se tu ti ci metti Sopra Ti mette la tua esperienza Dentro la tank Tank che voi già ben conoscete Però in questo caso Noi abbiamo questa Abbiamo la farm Non ci interessa Però l'XBottle Blubbl Può essere molto interessante XP bottle Quindi noi lo facciamo Per Scoprirlo insieme Ho fortunatamente Per i più annoiati Preparato quasi tutto Quello che mi serve Perché sono un Un coglionazzo E di solito Perdo troppo tempo Davvero Andare a cercare le cose Quindi Qualche puntata Quella in cui Bisogna metterci l'ingegno Vi dovrete beccare Il vostro MK Quello che non si ricorda Niente Ehm Bene 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 Allora l'XB Blubbl Lo possiamo mettere Blubbl Qui Ok E gli possiamo dire Gli possiamo dire Di prendere Girati Autodrink Da qua Ok Poi Gli dobbiamo dare Due belle chest Che fortunatamente abbiamo, grazie cara, in una gli diciamo di prendere i cosetti di vetro, le glass bottle e nell'altra gli diciamo di mettere le cosine, quindi questo è questo lato qui, ok e questo qui da dove prende è fatto molto 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 bene, auto extract è questo, guardate ha preso una bottiglietta, però il bastardo non mi rileva la tank, perché è della tua stessa mod ciccio, chicco, perché non la prendi? Vabbè se proprio ti dà fastidio faccio così, e ti metto anche il lato, vedi che si resetta che strano, oh perché? O lo sta facendo e sono tipo un coglionazzo, no non lo sta fanno ragazzi, si resetta lo stronzone, e perché nel mio mondo incredibile tu funzionavi adesso no? Eh? Brutto kamikaze? Allora, ricominciamo, ok, no, noi gli dobbiamo dire di auto drink da qui, vediamo se si resetta, no, vai alla grande, ok, perché non va ciccio? Ciccio, devi andare, ciccio, non lo vede, però lui rimane, ai 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 se faccio un figlio, queste sono cose che uno dice, no non può succedere, e invece succede, allora, chiudiamo con dell'ottima stone qui, io provo, no però l'avevo provato proprio accanto, 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 quindi questa cosa mi lascia anche un po' interdetto, o ebbetito, riproviamo, proviamo a metterlo di lato, l'XB bottle di lato, allora gli dico, prendi da qua, va bene? dobbiamo sì giù, guardate, puuu, puuu, puu, eppur ragazzotti miei, eppur si muove, sapete che questo mi lascia proprio, eeeh, non lo so, mi lascia come dire, tipo, ma va a fa il culo, l'ho provato cinque minuti fa, e funzionavi, brutto bastardo, cos'è questa leva, no, non ci interessa auto-eact e auto-extract all vabbè ma se non metto le ceste è inutile questa cosa mmm, murblete, murblete, murblete la moda è la tua, chicchillo te lo devi da ricordare allora se io metto questa e gli metto prendi da sopra lui prende effettivamente una bella boccettuola se gli dico buttala a destra lui la butterebbe a destra ma non prendi la roba forse la vuole soltanto da sotto che sia questo l'arcano mistero misterioso ne dubito ma se dopo provare fanno i giusti tentativi ragazzotti quindi gli diciamo prendila da sotto prendila da dove cazzo ti pare? prendila! oh mio dio perché? perché? vabbè ciao vedete che nel mio mondo creativa funziona ma sei bastardo dov'è la ney? eccola qua glass eh non sto in creativa giustamente vediamo ma sei bastardo e pignolo andiamo a riprovare allora non sto coglione io un pochino io ci riprovo eh soltanto per amore della verità allora bottiglietta a sinistra quindi tu brutto brrr graspo drinka qui e funziona attenzione rullo di tamburi questo è il culo eh perché non lo prende? perché? non lo prende non lo prende non lo prende no ho un'idea ho un'idea è malsana però ho un'idea voglio vedere se è buggato qui non so perché non so per qual motivo dovrebbe essere buggato in un mondo e nell'altro funzionare io non sono uno di quelli che urla il bug però davanti all'evidenza o forse ho fatto proprio qualcosa che adesso al momento mi sfugge nel dubbio io faccio così brutto bastardone se non funziona adesso ti rompo il culo eh va bene prendilo 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 e prendilo ok rega no 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 non risulta un inventario valido è molto strange potremmo provare con con ma io sto tergiversando vabbè a fine puntata lo faccio qualche prova con i gli altri tipi di cavi quelli della open block ah no l'open block non c'ha i cavi quello è l'ex utilities ok siamo nella merda wuhuu va bene andiamo avanti via direi di buttando tutto via tacci sua ci sono rimasto davvero male avete visto che funziona è creativa non sono pazzo giuro non sono pazzo intanto andiamo a vedere se ha fatto il glass eccolo qua grazie e poi ci ricorderemo probabilmente no allora andiamo avanti con la liquid xp liquid xp ti prego non abbandonarmi allora abbiamo visto il collector abbiamo visto l'absorber che è quello che ci sali sopra che sta qui da questi pizzi questo qui l'lxp catalyzer sostanzialmente produce esperienza quando dei mob delle entità muoiono nella sua area che è un bot è tipo 20x20 sarebbe utile farci una farm però questa qui è talmente ecologica e non richiede energia che non lo so poi abbiamo l'lxp enchanter ma prima dell'lxp enchanter dobbiamo andare a fare si non sbaglio l'imprinter ok per l'imprinter servono il bookshelf il pistone e questo empty medallion che ci che con cui per cui occorre un lxp bucket andiamo a prendere un bucket ecco qua un bucket e prendiamo un lxp bucket ne vogliamo prendere di più lo vogliamo fare non lo vogliamo fare ma facciamolo dai ne facciamo due allora ah si per giusto no ne devo fare due sono un pirlozzo ok facciamo così così ah no devo creare quello sono un nabbone sono un super nabbone oddio come si leva sta roba oh oh ok devo mettermi in testa che devo fare l'autocrafting però non mi va è palloso è noioso è brobroso ok ne abbiamo fatte due uno un empty medallion andrà a fare il nostro imprinter mettiamo piripi 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 e non ho preso il pistone porca Eva eccolo bello de casa viene qua quante volte l'ho fatto ragazzi sono sempre troppe poche riferito cioè è paragonato ai miei standard dunque pistone buckex un buccache anche per noi e tadaaa dell'aloxp imprinter prendiamo dei mechanical pipes e adesso lo faremo tutto incasinato poi ovviamente andrà tutto incastrato per benino ok lui lo vede fortunatamente io gli posso dire come potete notare qui da quanto cioè quanto questo medaglione deve essere riempito di livelli di esperienza lui me li quantifica infatti posso farne uno da 30 da 30 da 30 il punto è che stiamo chiamando l'esperienza e incazzo è tutt'uno eccola qua che arriva io sti cani li odio e tadaaa abbiamo un bellissimo cerchietto giallo e verde yes e che cosa possiamo fare ce lo diamo in faccia ah grazie no non è vero non è vero non ce lo diamo in faccia lo teniamo da conto e andiamo avanti allora adesso io qui ho l'enchanter ovviamente queste cose le ho guarducchiate mi sono preparate ma sto fandole con voi come al solito quindi non vi aspettate la perfezione perché non è uno spotlight cristina d'avena ah l'ossidiana l'ossidiana ho messo un come si chiama un inus extruder con un lava fabricator della main factory che ha prodotto un po' d'ossidiana 2000 pezzi prendiamo le 30 e andiamo alla nostra bellissima ender cestina eccola qua oh vedi il vetro bella per te dunque 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 rifacciamo così e facciamo il liquids come si chiama l'enchanter l'enchanter ma prima di andare via dobbiamo rendere due secchiellozzi basta eh neanche se mi preparo le cose riesco li morteggi ok secchiellozzo secchiellozzi diamante oddio mi dispiace tanto per il cane ragazzi ma purtroppo ok dove lo facciamo come lo facciamo per ora lo mettiamo qui e devo aspettare che rompe troppo il cazzo è incredibile il cane ha smesso da bagliare ed è arrivato il vicino con la moto da cross intanto con sei pezzettozzi pezzettozzi di lana messi così io ho fatto dodici di questi questi qui sono il blackout quarters ve la faccio vedere però della verità non so in che occasione potrei utilizzarla guardate 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 vedete si non potete vedere perché effettivamente se non faccio questo 1 2 3 1 2 3 1 2 e 3 sostanzialmente io ci passo ma la luce no attenzione che i mob passano e se lo raddoppiamo non si vede praticamente un cassiopea di niente ok non ho idea del perché magari una farma di funghi che crescono soltanto al buio o gli ambush quelli lì no gli ambush le imboscate i bush ecco qua ok questo qui ci servirà per fare quel glass nero di cui sopra però adesso non ce ne preoccupiamo dunque 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 io prenderebbi questi bookshelf e li metterebbi tutti intorno ok libri libri per noi e lui ci dovrebbe dire che vede 22 max livello 11 interessante vediamo livello 13 vuole la doppia fila di libri adesso io la metto così poi ci penseremo su a come metterla in maniera carina e ho finito le librerie dannazione no 15 livelli no vediamo un po' se ne ho altre book ne ho 32 ho 32 libri quindi ce li prendiamo ci prendiamo del legno oh quanto ne ho è davvero una cifra wood 24k ok li trovo qui dentro fandiamo quindi un po' di ma levati dammi qualche stack su facciamo così e voilà e le json fira cassotti belli ecco qua sei librerie mortasci tua quanto vengono voglio fare una farm ora farò una farm di librerie ma perché la fai marcus che cazzo ha fatto i cacchi tuoi ok vediamo un po' se ci abbastano tu ta 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 siamo a livello 19 quindi ipotizzo che dobbiamo andare di qua ma no non ce ne ho più e ovviamente la pelle non ce l'ho manco per il caspio perché devo ancora spostare i cosi no come ho detto io ti odio eri come un fratello per me oppela 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 l'abbiamo finiti ragazzotti non c'è più un casso da fare va bene adesso proviamo un po' come funziona perché non lo so giuro 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 non lo so giuro in giurello l'amore è bello allora se non ho capito male mettendo qui l'esperienza e mettendo qui un libro dandogli un'arma appropriata tipo il cisel non lo è ci dovrebbe tirare fuori un libro incantato con qualcosa di riferito all'arma che mettiamo ora 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 io ho soltanto una spadina qui quindi direi di andare a fare un ottimo ah no mi servirà un sil touch a breve quindi vorrei fare un piccone voilà no no piccone ok cosa ho tirato allora mettiamo qui dentro il piccone e vediamo che cosa sta succedendo niente forse vuole l'esperienza ciccio è plausibile anche io se fossi un meccanismo della liquid xp vorrei l'esperienza liquida quindi io non vedo perché non accontentarlo intanto sto distruggendo una stanza che ho creato con tanto amore opera opera però no non si collega no 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 non si collega perché tu non mi non mi cosi forse perché max level questo è troppo grande vogliamo riempirlo con un medaglione subribbriboso se faccio così che succede no facciamo l'altro medaglione ma si ma facciamolo comunque qui devo sistemare un pochino secchi e lozzo tanto i materiali non ci ammancano così e patapim un medaglione proviamo a mettere il livello 22 ok si sta affando si sta riempendo è anche abbastanza veloce devo dire e abbiamo un livello 22 vediamo se era quello che faceva titubare il nostro amico yes che ci ha dato handbraking 3 e fortune 2 molto molto bene e ci consuma il piccone ci ridà il medaglione vuoto quindi oh abbastanza faico ok 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 dobbiamo andare a vedere l'ultimo tra gli ultimi cheat intanto facciamo così e mettiamo un po' d'ordine alle nostre cose no questo me lo ripengo ok ritorniamo su liquid exp e abbiamo abbiamo l'isolator e abbiamo il combiner vediamo prima il combiner eccolo qua giusto? sto saltando qualcosa? no bravi ragazzi patapim dove sono le anvil? zon 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 eccole quindi 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 combiner anvil 3 secchiellozzi li mortecci 1 2 3 sono 4 però va bene va bene lo stesso eccolo qua stone e una furnace accidenti basta? dimmi di sì sì sembrerebbe sembrerebbe di sì facciamo un'ottima fornace e andiamo a fare questo questo qua molto bene stone 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 secchiello 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 e anvil anvil ok ecco il combiner non so come cazzo funziona quindi lo attacchiamo qua allora il combiner dovrebbe unire dove è finito il mio piccone? l'ho lasciato qua dentro? sì l'ho lasciato qua dentro scusate ma mi vedo costretto a soffocare un brutto l'omeo possiamo metterci un oggetto e un libricino e noi possiamo unire finalmente questi due oggetti parapapà tada la cosa abbastanzina interessante se non ho capito bene male spine che è pure la la storia della mod è che adesso noi andiamo a provare a fare un altro medallion sempre live 22 perché altrimenti ci rompe il case vediamo 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 dai sbrigati 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 10 secchielli li mortecci eccola qua sei 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 tu ci mettiamo un libro ci mettiamo sempre questo però il libro lo volevo e ci ha dato fortuna 1 e efficiency 3 quindi ci hanno dato diversi c'è fortuna 2 però via e via comunque questa è esperienza gratis non stiamo sprecando alcunché ora se io metto questo qua e metto questo qui me lo fa fare sì patapim fortuna 2 efficiency 3 e un breaking 3 fantastico very good andiamo a vedere l'ultimo l'isolator oddio mio l'ho fatto l'isolator no non l'ho fatto l'isolator mi mancava l'isolator yes mi mancava l'isolator ragazzi state calmi quindi andiamo a fare due secchiellozzi ci sappiamo un anvil un diamantollo e e basta la stonna no 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 non ti sbagliare marcus non fare cose che hai già fatto altrimenti passi per un babbeo non che ci sia niente di male a passare per un babbeo ogni tanto ma già lo faccio troppe volte ed ecco quell'isolator che s'attacca quindi anche lui vuole l'experience ora io posso vedete io posso come potete vedere ok se mettiamo un libro però non è succedo cazzo oh santa pace questo mi lascia molto sconvolto pensavo che mi undecraftava la roba perché Ciccio non fai non collabori cioè passa tutto di qua vai vai tranquillo ok abbiamo bisogno di acculturarci sull'isolator andiamo a vedendo andiamo a vedendo andiamo a fando mo funziona vi giuro non ho trovato niente effettivamente funzionava come avevo pensato cioè come un uncrafting ci metto il libro qua metto l'oggetto incantato e mi ridai il libro e non funzionava adesso funziona non so perché forse il caosistema della stanza è più carina non lo so non lo so sono andato a prendere la pelle con le sheer della darkcraft che vincono benissimo e e e adesso 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 facciamo 30 livelli vediamo un po' che mi è uscito fortune 3 efficiency 4 questo ha fortune 2 ed efficiency 3 quindi io posso combinarlo vai con fortune 3 che lo voglio fortune 3 mi ha dato efficiency 4 fortune 3 è rimasto e e e dovrebbe funzionare anche come un envil dal punto di vista della riparazione quindi quindi a me due stick eccoli qua ci mettiamo questo qui vediamo un po' se è da funzia e se non ci leva i livelli perché se ci leva i livelli sei uno stronzo sei un grosso stronzone cioè se ci leva gli incantamenti perdonatemi fortune 3 efficiency 4 vediamo vediamo fortune 3 efficiency 4 completamente curato io volendo ci posso mettere poison ivy che cacchio è poison ivy oh mio dio non ce l'ha messa infatti perché si vede che non è dello strumento adatto l'unico problema è che ogni volta ci si consuma l'oggetto un pochino quando facciamo questa cosa quindi tanto vale a sto punto mettere farci oggetti di legna dov'è la mia legna perché non c'è la mia legna eccola qua farci soltanto oggetti di legna per poter prendere i libri cioè se io faccio così e faccio un pochino di spade effettivamente ne ho fatte vai crea adesso lui mi fa i cosi a livello 30 io li metto qua e mi si consumano soltanto le spade di legno chi se ne frega di quello che vanno a fanno loro l'unica cosa è che mi si bruciano i libri devo assolutamente fare una farm beh ragazzotti io direi di sallustrarci con l'enigma misterioso ovvero dove diavolo è ah io ho fatto tutto questo perché mi serve un seal touch mi serve un seal touch e poi ci dovremo incantare qualche cosa no io sto stocco ma sai vi dico ma incantiamoci ah si possono fare le armature di legno se non sbaglio vediamo un po' se ho torto o ho ragione eccole che cazzata l'armatura di legno via così io ho no il busto non ce l'ho stupido essere immondo ecco qui andiamo a vedere che una mi è uscita e intanto andiamo a farci che ne so l'elmetto no via questo mettiamo l'elmozzo ci ha dato respiration che pacco ah me l'ha distrutto l'immortaggi sua me l'ha distrutto l'elmetto vabbè c'ho un botto di pietra farò c'ho un botto di ferro userò quello taci sua sa che più che altro mi interessano no non mi interessa il calderone mi interessa il questo qua come si chiama aiuto le gambe vediamo un po' mi ha dato magic resistance e unbreaking non ci interessa minimamente l'immortaggi che sfigato che sono sbrigati or dunque non mi funziona l'invento di Twix con questa mod la cosa è molto triste chissà se si può automatizzare effettivamente se io faccio un autocrafting di di spade per dire è interessante questa cosa se io faccio un autocrafting di spade che entrano qui dentro di libri che entrano qui dentro e queste qui le faccio cicciare fuori e le richiamo le rimando qui loro si riempone e quando questa si ricarica questo molto 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 interessante ma io ho finito i libri cassiopea ho finito i libri ho finito i libri ho finito ho finito ho finito i libri se faccio così non succede assolutamente niente va bene ci siamo ci siamo ci siamo per le implementazioni le vedremo successivamente adesso basta io voglio riandare dal mio xb e e voglio assolutamente riuscire laddove prima ho fallito e che è una questione d'onore vieni qua dammi una ciasta eccola qui allora xb bottle allora questa è dell'open blocks tu sei dell'open blocks ok quindi è molto semplice tu devi semplicemente ciucciare da da di auto drink ma non è che questi so oh mio dio aspetta un attimo oh my god aspetta un attimo no glielo devi dire lo devi far diventare rosso perché non mi fa diventare rosso ah eccolo 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 e quindi dovrebbe ciucciarlo lo stai ciucciando ma perché no direct auto drink dai bello di cosa devi ciucciare ciucciare ti prego niente non lo so perché se qualcuno ce l'ha qualche idea ve lo scrive nei commenti vi prego qui ho fatto dei packager che ci serviranno nella prossima puntata questa era la liquid xp queste sono le funzionalità sostanzialmente praticamente la vostra esperienza diventa liquida e potete usare questi macchinari al posto dell'anvil dell'enchanting e c'è questa funzione di uncraftaggio che effettivamente non è male non è male non è male è un po' limitato perché avrei sperato in medaglioni più capienti perché vedete io qui posso anche andare avanti però il medaglione rimane al 30 a meno che effettivamente non ci ho pensato vabbè lo verificherò poi in creativa perché non c'ho più bookcase devo fare delle farm nella prossima puntata andiamo a fare un po' di railcraft perché voglio fare un tunnel bore si chiama tunnel bore come si chiama? si chiama tunnel bore che non l'ho mai fatto mi sembra figo e prima di concludere andiamo a prendere vediamo se ce l'ho qui la chisel e andiamo a prendere questo qui è futuristic vi prendo un futuristic no vi prendo un tot di futuristic e un tot di questi qua factory grazie e grazie non li sto rompendo perché sono completamente pazzo eh viene qua grazie allora in realtà qua ci volevo mettere delle rotaie però devo vedere se ci velocizzano ditemi voi nei commenti quale tipo di blocco volete decorato perché ho deciso che decorerò i fottuti blocchi cioè decorerò le stanze non le decoro mai questi qui cioè nel senso potresti andare a vedere sulla pagina della mod per farmi una cortesia perché altrimenti tipo ci metto 30 anni questo è ruzzinito oppure 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 quello futuristico vediamo questo che cos'è molto bello ce ne stanno tante di varianti viola strano viola interessante e con questo tra l'altro se non sbaglio se ci clicchi sul sinistro lo puoi cambiare bello bello questo è quello che uso della oh mio dio è sparito perché ma che what se clicco troppo veloce uh un testone ma che diavolo what perché se li cula se mangia i blocchi sto coso no fatti mangiare i miei blocchi clicca no non funziona si è sparito si sparisce ancora oh mio dio oh mio dio vabbè quindi questa stanza sta a voi vedetela voi nella prossima poi ci vedremo quell'altra bella per voi ci vediamo nella prossima puntata ciao